L'atmosfera nel tunnel che porta in campo è sicuramente migliore rispetto al clima presente fuori dal San Paolo. Vuole il terzo scudetto, la tifoseria romanista, la Curva P vuole essere invece il giocatore in più della squadra di Mondonico. Capello vicino al sogno, la seconda stagione romanista, Mondonico per evitare la recessione. L'arbitro è Treossi, dopo 30 secondi, la prima occasione per Del Vecchio che temporeggia e consente poi il recupero a Bocchetti. Punizione di Edmundo, Amoruso fuori di testa. Mondonico richiama Bocchetti che peraltro saprà farsi valere. Strepitoso questo tentativo di Tommasi, c'è l'intervento di Fresi che diffidato salterà Fiorentina-Napoli. Battistuta su punizione e Mancini non è perfetto, poi comunque neutralizza. Capello capisce che la Roma soffre dalla parte di Zago non protetto da Di Francesco, cambia qualcosa nell'assetto giallorosso. Intanto Bocchetti per Amoruso che chiede inutilmente un calcio d'angolo che non c'era. Poi Anculoschi, direzioni di Totti. Edmundo, grande palla-gol, la sbaglia di testa. Il brasiliano un'occhiataccia di Capello alla difesa. Poi Edmundo, il corridoio per Bocchetti con Zebinai in ritardo. 21 anni domani per Bocchetti. Poi Pecchia per Amoruso che brucia sul tempo Samuel. A metà strada Antonioli in uscita e vantaggio del Napoli che calamorosamente stordisce la Roma con questa giocata centrale. Amoruso che è andato a abbracciare Mondini. Ma poi il calcio d'angolo di Totti sbuca come un falco. Batti Stuta, ventesimo gol stagionale per lui, il 171esimo in Serie A in 270 partite. In ritardo Baldini prova inutilmente a trattenere per la maglia Batti Gol. Mancini anche non impeccabile su questo calcio d'angolo piombato nell'area del portiere. Fresi neutralizza Del Vecchio nel finale del primo tempo ma si infortuna. Poi nella ripresa Saberi in campo con Chiroga spostato nel ruolo di libero. Non convinto, Zacco con il destro si oppone validamente Mancini che risulterà davvero poi determinante. in positivo per la sua squadra. Intanto Cafu, Totti mette giù, protestano già i giocatori del Napoli. Palla in rete sul destro di Totti. Potrebbe essere il gol a Scudetto, si toglie la maglia, il capitano della Roma. Non ci stanno i giocatori del Napoli. Protesta soprattutto Mancini che viene anche ammonito a ragione. Mancini perché Totti addirittura tocca la palla con entrambe le mani. Prima la sinistra, poi la destra e mette dentro poi. Gol importantissimo, allora si blinda la Roma con il capello che mette Zanetti al posto di Del Vecchio ma ci sono anche Amauri per Bocchetti e Moriero per Amoroso. Cafu, appare svuotato il Napoli dal punto di vista atletico e anche nervoso. Ha speso moltissimo nel primo tempo, offre molti spazi alla Roma. Tommasi invita Cafu, velocissimo in area il brasiliano. Mancini, un ottimo intervento. Poi Usain per Moriero che parte in posizione regolare. Arriva Samuel, Treossi concede il calcio di punizione. Arriva sulla palla Samuel ma un po' a gamba tesa. Ci sono Jan Kulowski e Pecchia sulla palla. Va Pecchia, palla in mezzo alla barriera e poi inutilmente il tentativo di Antonioli. Pecchia, sesto gol fondamentale in questo campionato. Ecco la reazione di Mondonico, addirittura lacrime tra i tifosi del Napoli. Pecchia, la palla passa tra Di Francesco ed Emerson. Si era portato in avanti Zanetti. Antonioli ha un riflesso solo parziale. Poi Moriero. Lento il suo destro. Zanetti va a cercare Montella messi in campo al posto di Tommasi da Capello. Montella potrebbe essere il sinistro dello scudetto ma questa di Mancini è la parata della speranza. Tre minuti di recupero. Sudatissimo Capello ma l'arbitro fischia la fine. Lunghissima nella mente la passeggiata di Antonioli. Rientro verso gli spogliatoi. La delusione dei tifosi della Roma. Possiamo staccare con le immagini. Per 30 minuti la Roma con le mani, è proprio il caso di dirlo sul terzo scudetto della sua storia. Poi però l'incapacità di chiudere il match e il cuore partenopeo nel finale è stato decisivo. 39 punti di differenza tra le due squadre oggi non si sono visti al San Paolo. Napoli con l'orgoglio, con un primo tempo davvero alla grande. La Roma sì con i guizzi dei suoi fuoriclasse ma molto perforabile in difesa. decisivo nel Napoli l'inserimento di Moriero nel secondo tempo. E adesso uno spazio interviste particolarmente saliente. Salvatore Biazzo ha raccolto le valutazioni di Mondoni, di Capello e ascoltate con attenzione quelle del presidente del Napoli Corbelli. Vediamo. Sì, penso che il Napoli meriti i complimenti oggi perché il Napoli ha fatto una grande partita, una grandissima partita. In campo non si è visto, la squadra prima in classifica, la squadra che sta lottando per l'altro eccetera. Diciamo che la Roma ha avuto questo secondo gol, un po' da discutere. Perciò vuol dire che sono ancora grandissimi i meriti di questo Napoli. Ma quello è sempre stato, è sempre stato durante l'anno. Perciò non abbiamo niente di cui rimproverarsi, domenica andremo a Firenze e cercheremo anche lì di vincere la partita per vedere come va. Devo dire che la partita probabilmente vera è stata giocata qui da noi in questo stadio dove tutte e due le squadre volevano vincere. E questo è stato davvero... Si è visto, tutte e due volevamo vincere, non c'è stato nessun tatticismo. Perché vuole rivedere la partita del Verona? Perché era una partita messa in discussione dieci giorni fa già da un giornalista autorevole, il direttore del Guerin Sportivo, che in un'intervista mi aveva lanciato questa palla. Io credo che siano conclamate le parentele fra le due società e quindi questa cosa faccia pensare male. Poi il Verona magari ha vinto con grande merito lottando per quella partita e io così anche per curiosità personale mi riservo di vederla perché è una partita che vorrei esaminare con attenzione.